Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Sorprendente ma veritiero. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito all'attacco dei suoi 5 Rottweiler mentre cercava di fare ingresso nella sua abitazione. Ma come è possibile che i suoi cani l'abbiano dilaniato? Cosa di insolito è accaduto? Ecco quanto riportato da Leggo.it. Il giovane rispondeva al nome di Augusto José Garcia, cittadino del Nicaragua, e ha perso la vita a causa delle ferite subite durante un violento attacco perpetrato dai suoi 5 animali in un quartiere di Managua, secondo quanto riferito dai media locali. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando il giovane è rientrato nel cortile di casa superando il muro di recinzione, nel quale viveva insieme a uno dei suoi fratelli. Invece di utilizzare la porta d'ingresso, come di consueto, Augusto è entrato dal cortile poiché aveva dimenticato le chiavi di casa. Sembra evidente che i cani non abbiano riconosciuto il loro padrone e lo abbiano attaccato brutalmente. Questo è quanto riportato dal canale 8 della televisione nicaragüense. E tu cosa ne pensi di questa tragedia? Faccelo sapere nei commenti, grazie. A presto.